Sostituire le batterie della tua Tesla costa troppo? Beh, prendi 30 kg di dinamite e il gioco è fatto! Salve e benvenuti in questo nuovo video dedicato alle news, video che ogni martedì porto sul canale con le tre notizie della settimana precedente che più mi hanno colpito. Beh, se il video o magari il mio canale vi dovesse piacere, allora perché non iscriversi? Per voi è davvero un piccolissimo gesto, ma per me e per il canale è molto importante, quindi grazie! Bene, iniziamo allora parlando di tassazione auto. Sembrava probabile che con la legge di bilancio, che dovrà essere approvata entro il 31 dicembre, ci sarebbe stato qualcosa che riguardava l'abbattimento delle tasse relativa al mondo dell'auto. Ma così non sarà, e a meno di sorprese dell'ultimo momento, molto difficili, sembra proprio che nulla verrà smosso. Rimangono quindi invariate l'IVA sull'acquisto dell'auto, un salasso pari al 22% del costo dell'auto, che mai come in questo momento poteva essere un buon incentivo all'acquisto se l'avessero abbassata magari anche solo di un po'. Il bollo, o meglio la tassa di possesso, tassa che si paga alle regioni ogni anno e che varia a seconda dei kilowatt e della classe ambientale. Il superbollo, che per tutte le auto che cedono i 185 kilowatt si pagano 20 euro in più per ogni kilowatt in eccedenza. L'IPT, tassa che questa volta si paga alle province al momento dell'acquisto dell'auto nuova, e che aumenta con l'aumentare dei kilowatt, può essere soggetta ad aumenti decisi della provincia stessa, aumenti che hanno applicato praticamente quasi tutte. Si vede che trascrivere costa molto. Poi abbiamo le revisioni, che hanno visto un aumento considerevole, e siamo arrivati infatti a pagare 77 euro per ogni revisione. Abbiamo poi quella che si versa al servizio sanitario attraverso l'assicurazione RCA, circa il 10% del costo della polizza, il che però mi sembra anche onesto, dire il vero, visto che serve per coprire in parte il costo ospedaliero. Abbiamo le accise sui carburanti, ma questo è un vecchio discorso che non viene mai veramente affrontato, e che non potrà mai essere davvero risolto. E infine possiamo parlare del passaggio di proprietà, costo che a volte è quasi pari al valore dell'auto stessa, e che nel tempo ha sempre frenato il mercato dell'usato. Insomma, chi più ne ha, più ne metta, e nulla ci sarà, almeno per il momento, per mitigare queste spese, e non sembra previsto nulla neanche per incentivare l'acquisto delle auto nuove. Vedremo cosa ci riserverà il 2022. Bene, passiamo adesso alla seconda notizia, che riguarda il mercato dell'auto nei primi sette mesi del 2021, con la classifica delle auto più vendute nel nostro paese. La regina indiscussa rimane come sempre la Fiat Panda, seguita dalla Fiat 500 e dalla Lancia Ypsilon. In tutti e tre casi, quindi, stiamo parlando di auto del gruppo Stellantis e di piccole dimensioni, specchio del vero andamento del mercato. È normale che sia così certo, specie dopo anni duri e bui come questi, anni in cui le spese relative all'acquisto dell'auto hanno visto una flessione netta. Al quarto posto abbiamo ancora una Stellantis con la Renegade. Al quinto posto, invece, abbiamo una Toyota, la Yaris. Al sesto, di nuovo una Fiat, la 500X in questo caso. Al settimo, un'altra del gruppo Stellantis, la Citroën C3. All'ottavo, la Dacia Sandero. Al nono, la Ford Puma. E al decimo posto, la Volkswagen T-Roc. In Italia, quindi, dominano le italiane e soprattutto le auto medio-piccole, il che è un bene, almeno io la vedo così, ma d'altra parte dimostra che il potere d'acquisto degli italiani si è asceso e anche di molto. Fondamentalmente, a parte la Renegade e la T-Roc, per il resto stiamo parlando di auto piccole e dal costo contenuto. Speriamo in una ripresa del settore, ma non ne sarei così sicuro. Bene, veniamo adesso alla terza notizia, quella che dà il nome alla copertina e anche all'intro. Un finlandese, felice possessore di una Tesla Model S del 2013, aveva iniziato ad avere qualche problema con quest'auto, spie che si accendevano continuamente e altre piccole cose, fino a quando non è rimasto a piedi del tutto. Portata l'auto in concessionaria con un carroattrezzi e atteso circa un mesetto per i controlli del caso, si è visto preventivare la sostituzione dell'intero pacco batterie. Essendo fuori garanzia, il costo avrebbe dovuto sostenerlo lui stesso. Totale 20.000 euro per la sola sostituzione del pacco, più altre cose che poi magari sarebbero potute saltare fuori una volta fatto il lavoro. Il signore, che non aveva nessuna intenzione e voglia di spendere tutti questi soldi per ripararla, ha pensato bene di portarla in una cava, riempirla di dinamite, circa 30 kg, e farla saltare in aria. Il gesto è stato più che altro di protesta, sapeva benissimo però che avrebbe raggiunto un successo mediatico non indifferente. Ma al netto del gesto, il problema che avevamo già discusso, è cioè cosa accadrà alle auto elettriche una volta che avranno passato il periodo di garanzia e il pacco batterie dovrà essere sostituito dal proprietario dell'auto. Non stiamo parlando solo di Tesla, ma di tutte le marche. Un discorso questo che dovrà essere affrontato prima o poi, ma del quale in pochi parlano. Ci ritroveremo a fare tutti dei fuochi d'artificio altamente costosi. Dai, a parte l'ironia, queste saranno problematiche che andranno affrontate sin da subito per non ritrovarsi dopo qualche anno con un pugno di mosca in mano. Il discorso secondo me è serio e se non si garantisce un prezzo adeguato a questo tipo di riparazione ci ritroveremo davvero con delle auto usa e getta. Bene, penso di non dover aggiungere nient'altro. Le raccomandazioni ve le ho già fatte all'inizio e non mi resta che salutarvi. Ci vediamo domani con un nuovo video. Sì, questa settimana la programmazione sarà un po' diversa per non arrivare alle vigilia di Capodanno. Quindi mercoledì le riflessioni e giovedì lo speciale dei 10.000 iscritti. Bene, a domani allora. Ciao ciao!